tesoro ti ricordi dove hai messo i fiammiferi aspetta non occorre eccoli li ho trovati è la nostra prima sera senza elettricità perché ieri sera abbiamo avuto ospiti e quindi la luce c'è stata quasi per tutta la serata ti senti giù sei arrabbiato con me no e allora che cosa c'è è stupido il progetto è stupido stare senza elettricità dimmi chi ci starebbe è stupido di me che cos'è che ti dà noia sul serio mi sento come se questo fosse troppo per tutti noi non si può parlare con te quando stai così non lo so sento che questo progetto attrae le persone solo per curiosità ma sento anche che quando pubblicheremo il libro sarà solo un altro libro irrilevante diciamo solo che hai scoperto che è totalmente stupido giusto ok io non lo penso ma immaginiamo il peggiore degli scenari non distruggiamo tutto quello che abbiamo fatto insomma è stata dura ma è stato anche molto divertente non trovi anche tu sì è stato divertente radio pubblica new york in fm e un de media new york e wnyc.org il tasso di umidità oggi è molto alto siamo già a 30 gradi sono solo le 10 di mattina è disgustoso sono tornato a casa ieri e ho trovato l'appartamento pieno di mosche c'erano gruppi di mosche che si riproducevano nel mio bidone dei verbi e ogni volta che sollevavo il coperchio ne venivano fuori tantissime oh mio dio guarda qua oh mio dio guarda bene è come la terra vedi io non pensavo che non avrebbe funzionato però non funziona c'è un motivo per cui esistono i frigoriferi guarda bene è come la terra vedi